I pici e l'atto di appicciare sono entrati a far parte dell'inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano. Siamo qua con il presidente della società qualità sviluppo rurale Stefano Biagiotti, nonché rappresentante dell'università telematica Pegaso della sede di Montepulciano. Che cosa vuol dire che i pici sono entrati a far parte di questo inventario? Che cos'è questo inventario? L'inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano è stato istituito con un decreto il 15 settembre e con una fascia di tempo di 30 giorni il Ministero consentiva ai vari stackholder dei territori di poter intraprendere questo percorso di iscrizione appunto dei prodotti agroalimentari per farli riconoscere come patrimonio. Teniamo presente che i pici sono in compagnia di un altro alimento importante in Italia e è la pizza. Sono due ad oggi gli alimenti e i prodotti agroalimentari che sono in questo inventario. Ma che cos'è questo inventario? L'inventario non è altro che un elenco di prodotti agroalimentari particolari che hanno valenza nazionale e che pertanto il Ministero ritiene di doverli in una qualche maniera tutelare. Ma tutelare non nel senso di fare disciplinari o nuove norme a cui attenersi, ma inventariarli proprio per dare l'evidenza della loro importanza sia localmente sia a livello nazionale. Su che cosa si è basato questo studio e qual è il team? Chi è il team che ha lavorato per questo importante traguardo? Il team è il team dello sviluppo locale di qualità e sviluppo rurale che è costituito dall'antropologo Alessio Banini, dallo storico Filippo Masina e dalla dottoressa in chimica Francesca Sordi. Un gruppo multidisciplinare proprio perché nel nostro dossiere abbiamo proprio evidenziato la multidisciplinarietà che sta dietro a questo prodotto e all'arte dell'appicciare. Con l'arte dell'appicciare il nostro dossiere e con il ticio abbiamo dimostrato che dietro a questo prodotto c'è una storia, c'è tutti degli aspetti antropologici e diversamente dalla pizza che è un qualcosa di artigianale, dietro all'appicciatura c'è invece la socialità. Noi abbiamo visto che questo piatto è un piatto delle sagre, è un piatto che accomuna le generazioni e all'interno delle generazioni anche le diverse compagini sociali. Quindi è, secondo noi, ma è stato riconosciuto anche dal Ministero, proprio una caratteristica del ticio, di questa pasta tradizionale fatta nel sud della provincia di Siena. Ecco, quindi un'importante valenza sociale di questo prodotto, ma andando un pochettino più sullo specifico e quindi sul turismo, sull'importanza di questo prodotto per il territorio, quali potrebbero essere le ripercussioni di questa iscrizione sul territorio? Allora, diciamo che con l'iscrizione all'inventario nazionale il PIC assume una valenza importante, cioè un riconoscimento importante a livello nazionale. Questa è stata la lungimiranza della governance locale e anche di qualità e sviluppo rurale che ha proposto alla politica l'inserimento di questo prodotto eccellenza del nostro territorio. Ecco, ora noi lo consegniamo a quelli che sono gli stacchioli del territorio e questi quali sono? Sono le associazioni che svolgono le loro attività nel nostro territorio, penso per esempio a Celle sul Rigo con la filarmonica che è 49 anni, che stanno valorizzando con la loro iniziativa questa eccellenza, ma penso per esempio a Due Pici sotto le stelle di Chianciano che invece è un'iniziativa che ha 3 anni, quindi giovane, penso per esempio alle iniziative che ci sono a Castelmuzio, che ci sono a Montepulciano, quindi il nostro territorio è invaso da queste iniziative che valorizzano il territorio e all'interno del territorio anche questo prodotto. Come lo possiamo utilizzare questo riconoscimento? A mio avviso la prima cosa che dobbiamo fare è quella di riunirsi intorno a un tavolo tra le associazioni di categoria, i commercianti, gli agricoltori e quindi trovare un sistema, mettere a sistema tutta la filiera. Penso per esempio al piccio con la farina dei grani antichi, penso per esempio a delle iniziative e delle azioni che valorizzino questo prodotto e che siano leva sia per le associazioni e quindi per le manifestazioni che ci sono a livello locale, ma penso per esempio anche ai ristoranti che utilizzano appunto i pici fatti a mano. Tengo a precisare che quello che noi abbiamo portato in candidatura non è il piccio industriale, ma è il piccio appunto quello fatto dalle massaie, perché è proprio la tradizione che è il filo conduttore del riconoscimento che ci ha dato il Ministero. Noi portiamo avanti una tradizione che ormai è probabilmente centenaria, anzi è centenaria del nostro territorio e lo portiamo avanti con una trasmissione orale e pratica delle massaie e questo è stato appunto uno dei punti di forza di questa candidatura. Allora capiamo bene che se è la tradizione che ha premiato l'inserimento del piccio nell'inventario nazionale, la tradizione fa parte del nostro territorio e è la tradizione che ci consente anche di promuovere il nostro territorio. È un serpe che si morde la coda, nel senso che la tradizione è turismo, il turismo è tradizione e quindi se riusciamo a fare sistema anche in queste cose, i prodotti agroalimentari, la tradizione, il nostro ambiente, il nostro paesaggio sono delle leve e un valore aggiunto per aumentare il turismo e quindi l'accoglienza e quindi la presenza anche di ospiti.